I tempi sono ristretti per l'incremento delle sofferenze, perché ci dovresti leggere la lettera a Banca d'Italia innanzitutto, se è possibile, ma ormai penso che sia possibile, perché l'incremento delle sofferenze non è di ieri, ma è atabico, già era nel 2013 che dovete metterle in sofferenze, già quello lo dovete fare, ma l'entità completa, non gli spiccioli, perché dissi nel bilancio 2013, mettiamo tutti in evidenza e ripartiamo da zero, qui si è fatto la banca per la raccolta, l'abbiamo pagata tanto, l'abbiamo raccolto per gli impieghi gente che non meritava, e l'istruttoria, io ci vorrei venire dentro con te a farti vedere le istruttorie che sono state fatte facili, ne sono convinto di questo, ne sono convinto, ne sono convinto, e tu mi fa piacere che tu in precedenza hai detto, io non pensavo che fosse così faticoso fare il presidente della banca, tu sei uno stimatissimo professore, professionista, qui nell'ambito del mondo del creio, ci sono tanti meandri e sono convinto, e lo dico pubblicamente, che quelle posizioni che oggi stanno così, che vorrei esaminare, sono state approvate quando tu non c'è, quando eri fuori del lavoro, che ti sono state riportate, e io lo grazie.